Atteso poi sempre oggi il testo finale del disegno di legge sui voucher e a questo proposito sentiamo cosa ne pensa Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Certamente ci sono usi impropi, ci sono stati anche abusi, ma se l'uso dei voucher nel nostro settore vale l'1,1% del costo del lavoro complessivo mi pare che parlare di abusi sia un'esagerazione. Insomma questo è uno strumento che in passato veniva gestito con il lavoro nero, lo dico con grande sincerità, con il voucher, certamente non è lo strumento ideale, però nel frattempo si coltiva anche l'aspetto di diligenza, di attenzione alle norme che pian piano va fertilizzato anche dando delle convenienze che devono essere considerate come un investimento sulla legalità.